Biella in gioco. L'attuale amministrazione attenta alle esigenze di bambini e genitori ha pensato di proporre, visto il successo riscosso dalla ludoteca in trasferta, un progetto analogo che potesse rispondere ai bisogni delle famiglie di impegnare durante la giornata del sabato il proprio figlio con attività ludico-creative. Il servizio offerto è rivolto all'utenza libera e i genitori durante la giornata del sabato dalle 9 alle 12 e al pomeriggio dalle 15 alle 18 e 30 avranno la possibilità di accompagnare il proprio figlio presso la sede di Palazzo Ferrero dove verranno accolti dagli educatori della ludoteca Giocolandia. La Biella in gioco persegue i seguenti obiettivi. Offrirà agli utenti una programmazione ricca ed articolata di proposte ludiche che rispondano alle esigenze di diverse fasce d'età. Le attività proposte saranno la manipolazione con terracotta, DAS, pasta di sale, laboratori creativi, attività ludiche e ogni bambino potrà partecipare alle attività che desidera. All'interno della sede di Palazzo Ferrero verranno adibite tre stanze utili alla realizzazione del progetto. Gli educatori della ludoteca Giocolandia si impegnano a pubblicizzare le attività del progetto Biella in gioco consegnando i volantini ai bambini quando si recheranno presso le sedi scolastiche durante i percorsi proposti dalla ludoteca in trasferta. Gli incontri che sono partiti sabato 31 ottobre presso la sede di Palazzo Ferrero proseguono vista la partecipazione sempre nel rispetto delle normative anti-covid.